Il direttore generale della O di Sassari, Antonio D'Urso, si dimette e lascia l'azienda di Viale San Pietro a Sassari. Del 21 marzo assumerà un incarico analogo in Toscana dell'azienda sanitaria sud-est. Il manager ha ricoperto il ruolo dall'ottobre del 2016, è stato testimone del primo atto aziendale della O che ha definito le modalità di integrazione della componente ospedaliera e di quella universitaria, oltre alla creazione dei dipartimenti. In una lettera ai dipendenti della O di Sassari, D'Urso racconta delle scelte difficili che ha dovuto fare in questi anni a causa delle criticità nei processi di fornitura di beni e di servizi, conseguenti alle condizioni logistiche e strutturali degli immobili ospedalieri. Molti gli obiettivi raggiunti, come la definizione del processo di liquidazione ai diversi operatori economici di fatture non pagate, che ha determinato ad oggi la corresponsione in due anni di circa 71 milioni di euro per forniture rese alla O, quindi alla stabilizzazione del personale precario, qualcuno anche da 15 anni. Raccoglie in Toscana un testimone importante, la più grande azienda sanitaria della Toscana, la seconda in Italia per estensione territoriale.